All'esterno del cannone, dove siete, vi ricordo, registrati 24 ore su 24 a tutto quello che state facendo, sia che mangiate, sia che vi esibite col monociclo mentre fuori all'esterno ricordiamo che c'è la serata regga nei due punti nel canton della Baldoria e nel canton del Mercà fino alle 10 e mezza dopodiché rilassiamo per non disturbare e sentirci gli insulti perché alle 2 e mezza anzi 3-10 stavamo ancora facendo girare i dischi allora rientriamo un pelo nei ranghi e verso la 1 e mezza finiamo